Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui tra noi, buonasera. Allora, ragazzi, oggi comincio a imbastire una coltura di fitoplancton, isocrisis alga, mono alga, per partire, partiamo piano piano. Queste sono già colture che ho fatto partire da un paio di giorni, di solito ci vogliono dagli 8-9 giorni, per avere una buona coltura, diciamo, deve essere bella corposa, con molti organismi all'interno di flora viva, che è molto buona per i nostri coragli e per il nostro habitat, fitoplancton, si chiama fitoplancton, praticamente il fitoplancton è la materia prima del nostro ecosistema dell'acquario. In tutti i mari, anche nei mari, la prima cosa migliore che c'è nel mare è il plankton, il plankton che si forma dal fitoplancton e dalle micro-organismi che si trovano nel mare. Poi, poi, di rotifere e quant'altro formano il plankton. Fito anche porta ai nostri acquari molti acidi, grassi, molte vitamine, tante sostanze che inducono i nostri coragli a star bene e a stabilizzare anche gli inquinanti tipo nitrati a regolare il nostro acquario. Allora, questo è il nostro litro di fitoplancton e andiamo ad aggiungere, a questo litro di fitoplancton abbiamo il nostro impiantino, variatore, come vedete. Ora ci andiamo a versare la nostra acqua portata a 1024-1025 massimo. Ora vi faccio vedere come si va a operare. Eccoci qua. Abbiamo preso dell'acqua salata pulitissima. Noi andremo a fare due litri in un litro di fitoplancton. Aggiungiamo dell'alimento perché se noi andiamo a mettere l'aeratore e non cibiamo... 1, 2, 3, 5, 6, 7... Allora, noi abbiamo del cibo per fitoplancton. Io uso un prodottino consigliatomi da un carissimo amico. Per ogni informazione poi andrà sul nostro canale. Noi andiamo a versare la nostra acqua... la nostra acqua nel nostro vessel. Andiamo a riprenderci. Ancora, ora arrivo. Allora, eccomi qua di nuovo. Finita la nostra operazione, abbiamo messo un litro di fitoplancton e due litri di acqua purissima salata 1024-1025, non di più, mi raccomando. Questo dovrebbe riposare ora circa otto giorni, riposare con ariatore, ossigenazione, con il suo cibo, abbiamo cibato, si ciba una tantum, e aspettiamo che cominci a vedere, a vedersi come questo qui, ad esempio, lo vedete? Forse non si vede tanto bene, ma sotto c'è, si vede, è più scuro, vedete? Chiaro, scuro. Si vedono anche delle... Questo, anche questo, sempre fito. Vi ripeto, ottimo, ottimo, ottimo metodo per i nostri acquari. Numero uno, insieme a rotifere e copepodi, formano il nostro ecosistema, nel nostro acquario. E basta, potremmo anche dire, dargli solo questo, e basta, come alimento. Signori, ci vediamo alla prossima per vedere il cambiamento. Questo è trasparente. Questo alga easy crisis. So crisis. Pura, unica. Poi possiamo anche fare con qualche altra alga, ma ci complichiamo un po' la vita, volendo, cioè, ce la potremmo complicare. Per ora è tutto, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!